Presidente Di Giovanna, domani e domenica Vela Day alla Lega Navale, intanto ci spiega qual è il senso di questa iniziativa? La Vela Day è un'iniziativa della Federazione Italiana Vela per la promozione della cultura del mare in tutta la popolazione, ma soprattutto le classi più giovani, quelle più sensibili, quelle più importanti, quindi i bambini e i ragazzi. Quindi da domani e dopo domani noi accoglieremo liberamente alla Lega Navale di Sciacca tutti quanti, dai 6 ai 99 anni, vogliono avvicinarsi per la prima volta alla Vela. E cos'è previsto? Un momento istruttivo? Sono previsti dei momenti istruttivi per i più piccoli, quindi con una barchetta, l'Optimist, che verrà messa lì per dimostrare come funziona la Vela, per i più grandicelli e per quelli ancora più grandi è prevista anche, compatibilmente con le condizioni meteo, un bel giro in barca a vela nella Baia di Sciacca. E chi volesse aderire a questa iniziativa cosa deve fare? È sufficiente che si presenti da voi? È sufficiente che si presenti, ci sono pure dei gadget che ci sono stati dati dalla Federazione Italiana Vela, c'è la Kinder che ha sponsorizzato questa iniziativa a livello nazionale, quindi daremo dei cappellini, dei gadget, dei sacchi a chi verrà per il ricordo di questa iniziativa. Questa si può dire che sia la prima prova del nuovo Presidente della Lega Navale. Intanto lei chiedo, lei che è una persona molto impegnata nella vita pubblica, con quale spirito ha assunto questo incarico? Beh, è uno spirito di sacrificio, ovviamente, perché il Presidente della Lega Navale per tutto quello che fa e per tutte le responsabilità che si prende non percepisce assolutamente nulla. Quindi quello che mi spinge è solamente un amore innato e profondo per il mare che ha animato tutta la mia vita fin da bambino e che mi ha spinto in background e sotto il mio lavoro a sempre essere vicino al mare e a promuovere il mare e tutto ciò che è mare, compresa la storia e la storia del corallo, come ben sapete. Assolutamente. Ecco, la Lega Navale di Sciacca è una realtà importante, tra le leghe navali siciliane e anche italiane. Assolutamente. Ci ricorda qualche numero? Ecco, e la terza di Sicilia è comunque una delle più grandi d'Italia. Noi abbiamo circa 230 barche e quasi 350 soci, quindi è una realtà importante in un luogo che, permettetemi di dirlo con orgoglio, è uno dei più belli di Sciacca. Quindi il fatto che sia qualcosa che funzioni e funziona, devo dire, bene, chi mi ha preceduto dal primo presidente Sante Cellammare, a Gaspare Falotano, lo storico presidente, ad Aldo Rossi, hanno fatto sì che questa Lega diventi una grande e bella realtà di Sciacca. È vero che Sciacca, secondo lei, non ha una vera cultura del mare, malgrado sia sul mare? Purtroppo sì. Sciacca ha una bella categoria di pescatori, una classe di pescatori che ha una storia importante alle spalle e io nelle mie ricerche ho studiato tantissimo la storia di questa categoria di pescatori. Nel mio libro, che ancora aspetta di essere pubblicato, l'ho tratto in maniera approfondita. Sono innamorato della categoria di pescatori di Sciacca. Purtroppo la rimanente parte della popolazione si mantiene lontana dal mare, non ha una cultura del mare. Forse ho un retaggio di quando dal mare arrivavano i Saraceni, quindi questo mare che dovrebbe essere via di comunicazione e strada di collegamento fra noi e quella meraviglia che abbiamo di fronte, che è l'Africa, viene vista come una barriera. Quasi si diffida. Quindi bisogna superare questa barriera, bisogna che la popolazione venga avvicinata al mare, bisogna partire dalle nuove generazioni, bisogna partire dai bambini. Il modo più bello per avvicinarsi al mare è la vela. Solo chi non ha provato la vela non sa che cosa sia. Quando sali per la prima volta su una barca a vela capisci che è un mondo diverso, che è il vero modo per affrontare e per godersi il mare.